Mister Di Meglio, vittoria importante, in chiave salvezza servivano i tre punti. Sì, per noi sapevamo che questa era la partita dell'anno, perché per noi era importante vincere e accorciare sulle altre per continuare il nostro cammino. L'allenatore avversario ha detto che il primo tempo avete lasciato il pallino del gioco a loro per poi probabilmente partire negli spazi. No, è che loro erano bravi con il loro mediano centrale, sapevamo che erano molto bravi, li abbiamo fatti giocare e il secondo tempo siamo andati ad attaccare un po' più alti e abbiamo fatto molto bene. La differenza l'ha fatta Selva, un piccoletto che però ha voglia, piedi e anche testa. Sì, è un ragazzo da quando sono venuto io, è un ragazzo come gli altri che mi sta dando tanto e soprattutto ha trovato il gol e sta facendo bene. Come cambia il Barano dopo il mercato di dicembre? Senza Vincenzi e Piccirillo, però con due ennesti come Conte e Terracciano? Sicuramente adesso dobbiamo prendere qualche giocatore che deve andare a sostituire questi giocatori che sono andati via, tra cui andrà via anche Marotta che lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato perché ha avuto un problema suo personale dove non possiamo dire di no. Lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato, però adesso dobbiamo andare sul mercato a rinforzare la squadra per poter lottare fino alla fine. L'attacco si resta così? No, io già ho chiesto alla società, vediamo se mi accontentano e se no andiamo avanti. Futuro, salvezza più vicina, abbiamo affrontato un po' tutte le squadre, il girone si è completato, quali sono le possibilità del Barano? Adesso inizia il girone di ritorno dove sappiamo che il girone di ritorno è molto più difficile, mi fa piacere perché comunque la voglia è quella giusta, vediamo gli ennesti che andiamo a mettere dentro perché comunque ne abbiamo bisogno e poi dopo alla fine tireremo le sopra. Grazie. Grazie.